Torna ancora una volta a Saione, al centro della cronaca, a denunciare l'episodio un abitante della zona, Luca Camaiani, che ha preso carta e penna denunciando quello che gli è accaduto ieri sera. L'uomo infatti ha dichiarato di avere subito una aggressione, prima verbale e poi fisica, da parte di un individuo di grossa corporatura, definito un aggressore seriale. Infatti, secondo il contenuto della lettera, sarebbe la decima vittima di questo energumeno che staziona nei pressi della chiesa di Saione. L'aggressore non andrebbe per il sottile quando incrocia le persone e li aggredisce senza distinzione di sesso e di età. L'episodio di ieri, giovedì 7 marzo, si è verificato intorno alle 16.20. La vittima è stata aggredita alle spalle con un colpo alla nuca, è stramazzato al suolo, non ha avuto altri danni evidenti, ma la paura è stata tanta al punto che poco dopo ha chiamato la polizia che ha fatto intervenire un'ambulanza. È stato confermato che l'aggressore è una persona nota per fatti di questo tipo e stia creando non pochi problemi nel quartiere. L'appello della persona aggredita è che si ponga rimedio a tutto questo, visto che si sta generando una situazione di estremo disagio. Per la cronaca, l'aggressore è stato fermato a fatica e portato via con l'ambulanza. Il timore è che si faccia rivedere visto che il soggetto è molto pericoloso.